Sono delle vere e proprie anteprime e come le vere anteprime sono dedicate ad un pubblico scelto, tutti gli abbonati. Tele più uno è cinema 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie, nemmeno tra primo e secondo tempo. Tele più uno è la soddisfazione unica di poter seguire i film in lingua originale o nella versione doppiata, semplicemente schiacciando un tasto del telecomando. E la possibilità di escudere a vostra discrezione la visione dei film ai vostri figli, impedendo l'accensione del decoder. Tele più uno è la sicurezza di portare in casa lo spettacolo che avete sempre sognato. Un canale televisivo diverso, discreto, unico, solo per chi se lo merita. Un canale che non fa rumore e che non ha bisogno di esagerare parlando dei suoi vantaggi, perché ne ha da vendere. Tele più uno, il modo migliore per vedere il cinema in tv. Chiedilo a chi ce l'ha.